Daniele Spallarossa, buongiorno, professore di sismologia presso il Distave, il Dipartimento dell'Università di Genova. Cominciamo con una domanda un po' provocatoria. Ogni volta che si verifica un terremoto c'è sempre qualcuno che dice che si poteva prevedere. È davvero così facile prevedere un terremoto? Direi di no, anzi più volte abbiamo avuto occasione di parlarne, anche in altre occasioni tipo in centro Italia. Diciamo che noi sismologi conosciamo abbastanza bene la storia sismica della nostra penisola, possiamo prevedere le zone dove potrà avvenire un terremoto. Questo non vuol dire che possiamo prevederlo, perché prevederlo vorrebbe dire l'intensità, la magnitudo e anche il momento stesso in cui avviene il terremoto. Quindi siamo ben lontani da questa possibilità, almeno ad oggi. Parliamo del terremoto che si è verificato a Dischia, con una magnitudo che era all'incirca di 3.8. C'è stata la polemica per il fatto che una magnitudo così bassa abbia provocato così tanti danni. Ma i danni dipendono solamente dalla magnitudo o c'è qualche cosa di più? Ogni volta che viene un terremoto c'è questa polemica, perché la magnitudo comunque sia è un parametro indicativo. Tenete conto che noi come sismologi non siamo in grado di misurare l'energia sprigionata alla sorgente, detta in maniera molto semplice. E lo scuotimento sismico che noi osserviamo, che è legato al danno, non dipende esclusivamente dalla magnitudo, ma da tantissimi altri fattori. In questo caso sembra che la profondità dell'evento sismico abbia avuto un ruolo molto importante, perché in zone vulcaniche i terremoti sono molto superficiali, e quindi terremoti anche di magnitudo bassa, 3.8, 4.0, possono generare scuotimenti anche notevoli. E questa è proprio una caratteristica peculiare delle zone vulcaniche. Per questo, diciamo, dal punto di vista della ricerca scientifica, noi siamo molto impegnati a studiare anche le caratteristiche di questi eventi sismici in zone particolari. Quindi al di là di quello che può essere l'abusivismo edilizio, comunque la magnitudo è un parametro indicativo e bassa, praticamente vuol dire questo? È un parametro che misura, dal punto di vista quantitativo, la sorgente sismica, ma non è esaustivo, non basta questo parametro. Tanto più che è stato, è un parametro che ormai ai suoi anni è stato, diciamo, studiato nel 1917-1920 e comunque non può tener conto della complessità del fenomeno sismico. Questo centro di sismologia del Distav è il più importante in Italia. Da quanto tempo studiate i terremoti? Beh, diciamo che abbiamo una storia molto lunga. Noi, diciamo, in Italia, nord-occidentale, abbiamo iniziato a registrare i terremoti dagli anni 60, all'inizio per puri scopi, diciamo, scientifici, e via via la nostra attività si è sempre più integrata in quella della protezione civile, a scopio di monitoraggio e anche di ricerca. E ultimamente, anche grazie al supporto di Regione Liguria, le nostre attività stanno evolvendo anche verso nuovi settori di ricerca, molto importanti. Qual è la situazione italiana? O meglio, l'Italia è una zona sismica molto attiva? Si può vedere nella carta della sismicità italiana che la maggior parte del territorio italiano è classificato sismico. Ciò non vuol dire che in quella zona vengano terremoti, ma vuol dire che in quella zona possiamo risentire degli effetti di un terremoto. Classico è l'esempio della Liguria, dove in Liguria eventi sismici localizzati proprio sulla regione sono relativamente pochi, tipo questa è la carta della sismicità, ma tuttavia possiamo risentire degli effetti di terremoti magari in zona penniniche oppure in zone del Mar Ligure. Classico è l'esempio del terremoto del 1887, un terremoto molto forte che è avvenuto a largo di Sanremo, Imperia, non sappiamo bene dove, ma evidentemente gli effetti sono stati notevoli. Ci può spiegare la mappa della pericolosità sismica sul territorio nazionale? Questa è la mappa della pericolosità sismica nazionale, redatta da un progetto dell'Istituto Nazionale di Geofisica nel 2005, a cui abbiamo partecipato, e questa mappa illustra a scala cromatica non la possibilità che avvenga un terremoto, ma la pericolosità sismica, ovvero che in quella zona avvenga uno scuotimento sismico di una certa intensità. Come si può notare, tutto l'arco appenninico, fino ad arrivare fino alla zona etna, è di una cromaticità rosso-viola, quindi a pericolosità molto elevata. Viceversa, ovviamente vale anche questo per il friuli, viceversa, la nostra zona, questa è la Liguria, ha la pericolosità sismica più bassa. Perché è importante questa mappa? Perché poi da questa mappa viene utilizzata, per esempio, per la redazione delle mappe di classificazione sismica, che classificano i territori in prima, seconda, terza, quarta categoria. È corretto dire che la classificazione della sismicità della Liguria, quella risalente al 2012, è in via di revisione? Sì, è corretto, nel senso che anche appunto grazie al contributo di Regione Liguria stiamo rivedendo la pericolosità sismica regionale, questa è una carta della pericolosità sismica regionale, dove si vede questa scala cromatica, vuol dire che man mano che il colore va verso il rosso, la pericolosità è più elevata e si nota che le zone a pericolosità più elevata sono quelle dello spezzino e ovviamente quelle dell'imperiese. Anche se appunto magari i terremoti in questa zona non ne avvengono, ma possono risentire dei terremoti avvenuti in aree limitrofe. In questo caso i terremoti in Appennino e in questo caso invece i terremoti nel Mar Ligure. Perché è importante? Perché dalla pericolosità sismica, che è un parametro che misura lo scotimento atteso del terreno, si arriva poi alla classificazione e questa è la classificazione vecchia che stiamo rivedendo, che suddivide non più il territorio ma proprio i comuni in prima, seconda, terza, quarta categorie. Ed è estremamente importante perché la classificazione sismica poi ha una ricaduta molto importante su tutte le opere di costruzione, di adeguamento e anche sull'iter burocratico dei progetti. La nuova classificazione introdurrà la cosiddetta zona 2, è corretto? Effettivamente sì, la nuova classificazione, mentre la precedente aveva solo zone di quarto e terzo, che aveva un certo significato, la nuova classificazione introdurrà probabilmente, che è via di approvazione da parte di Regione Liguria, delle nuove zone, dei nuovi comuni in categoria 2. Cosa vuol dire? Quindi ha pericolosità sismica più elevata, dove evidentemente nell'Liguria occidentale e alcuni comuni dello Spezzino. Ci può fare una carrellata della sismicità recente nell'Italia nord-occidentale? Beh sì, come vi ho detto, noi abbiamo iniziato a registrare i terremoti circa negli anni Sessanta. Questa carta qua rappresenta la sismicità recente, intendiamo dagli anni Sessanta, Settanta in poi. Ogni pallino rappresenta un terremoto, i pallini più grossi sono magnitudo maggiori e quelli colorati ce n'è alcuni più profondi. Come si può notare la zona, la Liguria, non ci sono tanti eventi sismici in Liguria, ma gli eventi sismi più significativi sono avvenuti fuori dal confine della Liguria. Ad esempio questo pallino qua è il terremoto di Asti, questo è il terremoto di Sant'Agata Fossile e questo è un terremoto che è avvenuto molto profondo nell'area di Berceto. E quindi si può notare che la zona, per quanto riguarda invece la Liguria, le zone sismicamente più attive sono nella Liguria occidentale, in provincia di Imperia o lungo il Mar Ligure. Quindi abbiamo parlato della difficoltà di prevederli questi terremoti, la difficoltà sta anche nel fatto che eventi magari molto lontani producono effetti anche in Liguria. Esattamente, per questo noi studiamo il fenomeno sismico, anche come si attendono le onde, proprio questo fatto perché terremoti anche di magnitudo relativamente media possono generare danni anche a 100-150 km di distanza. Lei ci ricordava il terremoto di Città del Messico, che cosa è accaduto lì? Città del Messico è un terremoto che ha fatto storia perché è stato studiato moltissimo in quanto le condizioni locali del costruito hanno avuto un impatto devastante sugli effetti del terremoto. Il terremoto è stato particolarmente distruttivo, ma bisogna tener conto che la sorgente sismica era molto lontana, adesso non vorrei sbagliare, ma intorno ai 300-300 km. Questa è proprio la dimostrazione del fatto che eventi sismici forti e lontani possono produrre danni ingenti anche a distanze notevoli. Alle sue spalle vediamo il monitor con le rilevazioni in tempo reale delle varie stazioni sismiche. In questo momento stiamo rischiando qualcosa? Direi di no, non stiamo rischiando niente. Diciamo che questo è il monitor in tempo reale che ha sostituito la registrazione su carta. Ogni simgla ha significato di una stazione sismica, ad esempio questa è la stazione di Parma, la stazione di Villa Emburi è questa qua, e quello che osservate, osservate dei segnali molto disturbati, in realtà questi non sono terremoti, ma è semplicemente disturbo locale dovuto all'attività antropica, oppure al vento, oppure anche al mare, che in qualche modo generano delle vibrazioni. E come sarebbe se ci fosse un terremoto? Ecco, nel caso di evento sismico, invece avremo un diagramma di questo genere qua, in cui avremo un segnale sismico coerente su tutte le stazioni, perché evidentemente un segnale sismico di un terremoto non viene registrato solo da una stazione, ma da diverse stazioni. e osservando questi segnali sismici possiamo già capire dove può essere l'epicentro. Un centro di elaborazione dati, questo del D-Stav importantissimo a livello nazionale, con rapporti trasfrontalieri con i centri francesi e svizzeri, quanti siete a lavorare qua? Beh, in questo momento siamo due persone più un ricercatore, e tutta l'attività che viene in qualche modo sviluppata viene sviluppata anche grazie al supporto di personale in qualche modo precario, ormai precario da più di dieci anni, senza il quale noi non riusciremo assolutamente a portare avanti le nostre attività. Grazie.